In questo video tutorial vedremo come creare dei memory giocabili in simboli Arasac. Quelli che vi sto mostrando sono dei memory in simboli costruiti attraverso l'integrazione di due piattaforme learningapps.org e beta.arasac.org. Questi memory sono giocabili, molti piattaforma, possono essere realizzati con immagini, testo o text to speech in breve tempo e possono essere condivisi con i colleghi e con il proprio gruppo di lavoro e con i propri studenti. In questo tutorial vi mostrerò come costruirne uno. Il primo passo da fare è quello di iscriversi alla piattaforma Learning App. Cliccando su iscrizione si apre una finestra di registrazione fatta a creare un nuovo utente. Una volta creato l'utente avremo la nostra pagina e il nostro profilo con cui potremo creare delle attività. Noi abbiamo già un profilo attivo e all'interno di questo profilo potete vedere che troviamo le mie app, le mie classi, la possibilità di creare un'applicazione è quella di cercare fra le app. Clicchiamo su crea app e raggiungeremo uno spazio in cui esistono diversi modelli. Noi sceglieremo quello del gioco del memory. Una volta aperto il gioco del memory potremo decidere di creare una nuova applicazione o di guardare degli esempi. Creiamo una nuova applicazione e le diamo un titolo. Possiamo descrivere l'attività da svolgere all'interno della finestra assegnazione dei compiti. Possiamo settare la grandezza dei cartoncini del nostro memory. Dopodiché andiamo alla creazione delle coppie che lo compongono. Se clicchiamo su aggiungere elemento si aggiungono una coppia di elementi in realtà che possono essere formate da testo, immagini o text-to-speech oppure da coppie miste, per esempio immagini e testo. Creiamo le sei coppie del nostro memory per creare un'attività che riguarda i pronomi personali. Decidiamo che le carte possono essere visibili oppure che queste possano scomparire una volta che vengono accoppiate. Una volta che abbiamo creato le nostre sei coppie andiamo sul portale beta.arasac.org Il portale ha una finestra di ricerca, non ha bisogno di registrazione e nella finestra di ricerca possiamo cercare i simboli, i pittogrammi. Anderemo a cercare il pittogramma io sceglieremo quello che ci interessa e lo setteremo in modo tale che il testo sia sopra l'immagine e che sia in stampato maiuscolo. Definiti i parametri del nostro simbolo lo scaricheremo all'interno del nostro device Faremo la stessa operazione per tutti e dodici i pronomi personali soggetto Dei pronomi personali possiamo anche cambiare altri parametri oltre che quelli testuali per esempio il colore del carattere ma anche l'aspetto delle persone Dell'aspetto delle persone possiamo cambiare il colore della pelle e il colore dei capelli per esempio Una volta scaricati tutti i pronomi personali che ci servono per la creazione del gioco li potremo importare all'interno della nostra applicazione Memory Per importarli sarà sufficiente trascinarli dal nostro device Nel mio caso sono in download alla finestra di importazione che compare cliccando su seleziona immagine Una volta completata l'importazione di tutte le immagini il nostro Memory sarà pressoché completo Dovremo soltanto provare l'app cliccando su Mostra anteprima in basso a destra Se l'anteprima corrisponderà alla nostra idea di Memory allora potremo salvare l'app Una volta salvata l'app questa sarà pronta per essere condivisa La condivisione si può effettuare attraverso un link o attraverso un codice per l'incorporamento Noi abbiamo scelto la condivisione a schermo intero che ci permette di far giocare il Memory senza distrattori attorno Questo è il Memory per come si presenta dopo averlo condiviso Le risorse offerte sul sito web betasac.org Nonché i materiali realizzati con queste risorse sono pubblicati con licenza Creative Commons che ne autorizza l'uso a scopo non lucrativo a condizione che ne siano citati la fonte, l'autore e che la condivisione avvenga con la stessa licenza Grazie